Diretta per Giotto, categoria 2, Bonsignore Caccia. Che turno è? Che turno è? Pegliotto. No, 104. Ho visto la 1 che stanno ancora a tirà, sono 39, 38. Quello, l'abbiamo tirato perché. Ma cosa è successo? Ma c'erano i celebristi. E non è vero. Ma non l'ho mai visto. Andiamo di qua intanto. Marzia Velà, 9,8. Forza Marzia! Brava! La Marzia è un po' distrutta. Per il soccorso. Vedo una lempedana. Caraccio del Bonsignore. Per il soccorso. Questa è una spada femminile. La marzia è un po' distrutta. E' un po' distrutta. La marzia è un po' distrutta. No, niente assalto per gli otto, quattro a tre per Stefano Caracciolo, su Riccardo Bonsignore. Vediamo chi altro c'è in giro allora. Aspettate un attimo perché stanno sistemando le pedane con un metodo molto fine. Non suona più, sembra. Arrivederci. Molto al piede di Bons. Quattro a varo. Cinque a quattro a Bons. Siamo a aver toccato Stefano. Doppio, sei a cinque per carne. L'altra pedanea ne abbiamo. Magnidus, come cambiare. Poi c'è Di Bella Balanucci. Sei bari, sei bari stoccata per Stefano. 50 secondi, sei bari stoccata per Stefano. Vediamo, non c'è un po' qua. 50 secondi, sei bari. Cinevrini, sei bari, cinevrini, anche se francese, bravi francese. 19 secondi. Grazie a tutti. Vado a vedere che fanno gli altri, oppure mi fai il commento tecnico come al solito? È un commento, non lo so, perché stavo salutando prima di partire e quindi non ho visto l'assalto. Devo dire, ben bilanciato, due bei tiratori in travi con i capelli bianchi, grizzolati anche. Gliela fa pesare, perché sei un po' più giovane e allora gli fai pesare che non vado da vedere. Di poco in realtà, due anni penso, tre. Allora qua Bons ha cambiato spada, attenzione Bons prende la francese, attenzione Bons prende la francese, attenzione Bons con la francese ha deciso che spara dentro, oppure si sente un po' insicuro sulle gambe, prende la francese. Priorità a Stefano, allora c'è la priorità, priorità a la droite, priorità a Stefano, Bons gioca la francese. Il più rouge, la francese, il più rouge. Vediamo che c'è qua Bons. Attenzione, Bons, sei giocato la francese per tirare la bronca. Attenzione, attenzione, non è andata. Vedremo a replay. Anche secondo me. Perché non ha fatto svenga. Però la pista suona. Complimenti a questa petana. Che suona da là fino a là, è bestiale. Eh ma questo è un problema grave. Signori, su questo assalto... Non hai la maviola? Eh no, sto facendo la diretta, non posso guardare la maviola, la possiamo guardare dopo. Perché c'è il... Eh si attaccano. Cioè la maviola... Comunque sia, nessuno può giudicare una stoccata su una maviola che non è ufficiale. Finché non mi pagano... Niente maviola. Eh no, dopo. Oh, mentre ci abbiamo... Chartrier Noël 5 a 3. Chartrier Ginevrino de Société des Scrim de Ceneve. Quindi noi ci chiamo per lui. Poi abbiamo Di Bella 4 a 3 su Vannucci. E Magni, non so che combina con Dus, aspettate. Aspettate che non ve lo dico. Non vi scollegate. 4 a 3 per Dus. Non ce l'hai? Sì, qua è. C'è la diretta. Attenzione, in quanto qui abbiamo Pelà Carnione. Qui, mentre lì si discute ancora, hanno cambiato pedana. Quindi torno di là a vedere la botta della priorità. Vediamo se siamo tutti d'accordo. Pronti a ricominciare. 45 secondi. Rida Caraccio. Mettetemi mi piace ogni tanto, anche non fa male. Non li vedo che passano. Di nuovo a Bonzo con la francese, ricordo. Fine, ed è passato. Andiamo a seguire Magni Dus. E non posso, non posso fartelo vedere. Perché sta andando in diretta e quindi non posso fermarlo. Dopo te lo mando. 5 pari. 5 pari. Dus Magni. Invece Di Bella, Vannucci, 5 a 4 per Di Bella. Morta di Christian Dus, 6 a 5. Luca, date la mossa. Morta e gambe. 6 pari. 6 pari. 3 pari. 2 pari. Ooooooh! Adesso mi scopoare Magniacci, 2 pari bella. 7 a 6. Sei sempre tu Dai Luca, tu L'indicativa è lo soccorso Il verde cinevino ha vinto François Chartier Non partire da lontano, è solo quello lo sbaglio Stai attento, fai un passino in più Stai solo attento a non partire da lontano 8 a 6 di bella su pannucci 9 a 6 Vai, vai, forza, forza Ancora così, dai 3, 2, 1 Esce 9 Giusto, se l'è presa Ogni volta che viene qua c'è il terrore di incontrare Luca E ogni volta lo incontra Se la tira 10 a 6, vedete qui Andiamo a vedere quella Vela Carnioni Passato Categoria 1 Categoria 1 No Marzia, no, non sei partita convinta Vai Respira Calma Marzia, 8 pari 8 pari Poi dopo questo fermo la diretta e ricomincio No, 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 no Guarda bravissima marzia bravissima ok stacco e riattacchiamo dopo quando ricomincia il prossimo turno della 2 dopo lo vedi perché